Tempi duri per chi si occupa della nostra salute fisica e mentale. Dopo lo scandalo di Via della Stamperia con il Palazzo del Centro di Roma, strapagato dall'Ente Nazionale di Previdenza degli Psicologi, un nuovo immobile entra nel mirino della magistratura per una plusvalenza di oltre 100 milioni. I PM sono ancora quelli di Roma. Il Palazzo è quello della Rinascente di Milano e appartiene all'EMPAM, l'Ente Nazionale di Previdenza di Medici e Odontoiatri. Una potenza economica, un patrimonio complessivo di quasi 13 miliardi di euro. L'edificio è un gioiello, 10.000 metri quadrati commerciali di fronte al Duomo. Nel 2007, anno in cui il valore immobiliare è al massimo, un fondo di Pirelli Real Estate lo compra per 360 milioni. Il fondo è detenuto per il 30% dalla medesima Pirelli Re e per il 70% da Deutsche Bank, dalla famiglia di industriali milanesi Borletti, da alcuni manager Pirelli e da un gruppo di investitori associati, che tre anni dopo, nel momento di massima crisi del mercato immobiliare, fanno il colpaccio e vendono il Palazzo all'Ente dei Medici a 472 milioni di euro, salvando il bilancio 2010 di Pirelli Re e realizzando una mega plus valenza a 108 milioni di euro. L'aggiunto di Romanello Rossi e il sostituto Fasanelli, che indagano contro ignoti per truffa aggravata dalla rilevante entità del danno, vogliono sapere perché EMPAM abbia pagato così tanto il Palazzo della Rinascente. Certo non saranno sfuggite agli inquirenti alcune strane posizioni, come quelle dell'italo-israeliano Ofer Arbib, consulente EMPAM e immediatore immobiliare, e di Rodolfo Petrosino, ex direttore generale Italia di Pirelli Re. Petrosino ha lasciato l'azienda nel giugno 2009 con una buona uscita di 2 milioni e mezzo di euro per fare il suo ingresso subito dopo nella società di gestione del risparmio FARE, First Atlantic Real Estate, che amministra dal 2006 il fondo Ippocrate, interamente sottoscritto da EMPAM. E dire che per ben tre volte nel corso del 2011 gli ordini de' Medici di varie province avevano chiesto l'UMI sull'acquisizione del Palazzo della Rinascente, ma da EMPAM e da fare, nel frattempo confluita in idea FIMIT, nessuna risposta. La società di gestione del risparmio ha negato il consenso, scrivono da Via Torino 38, in quanto trattasi di documento interno e riservato, e comunque, come avviene per tutti gli altri fondi, sia riservati che quotati. In un altro troncone dell'inchiesta romana, che oggi ha visto 150 finanziari impegnati in quasi 50 perquisizioni in tutta Italia, si indaga sull'ingresso nel patrimonio mobiliare di EMPAM di strumenti finanziari di tipo derivato ad alto tasso di rischio per un ammontare di quasi 3 miliardi di euro, un terzo dell'intero patrimonio della fondazione. Indagati il presidente di EMPAM, Eolo Parodi, e tre manager. Ma l'inchiesta sul patrimonio immobiliare dell'ente riguarda anche due immobili di Via del Serafico a Roma. Il costruttore romano Antonio Pulcini, nel giro di pochi mesi, li avrebbe comprati e rivenduti a EMPAM, realizzando una plusvalenza del 100%. Tremano i medici e molto tremeranno ancora. La procura di Roma indaga anche sulla nuova sede EMPAM di Piazza Vittorio a Roma, venduta a lente, sempre da Pulcini, per 147 milioni di euro. Pagata molto, moltissimo, davvero troppo, dicono gli esperti.